Salve ragazzi, quante reaction, quante reaction in questo 28, questo weekend del 28 gennaio, ieri abbiamo portato Paki e Shoot di Baby Gang, Saki e Gazzo, stamattina abbiamo portato Taxi Driver Plus e oggi, adesso, in questa serata di sabato, 29 gennaio, eccoci qui a presentare un'artista, un'artista che è un po' una mia scommessa, nel senso che l'ho ascoltato per la prima volta con la pubblicazione del suo singolo precedente, il singolo precedente che si chiama Ad un Party, si chiama Paolo, questo Paolo è di Calvagese della Riviera, un amico di Blanco e io l'ho scoperto grazie a Blanco che l'aveva taggato nelle sue storie e quindi mi sono subito incuriosito del genere e diciamo che è quella che è un po' la sua, quello che lo contraddistingue è il suo essere un po' un punk rap, oggi faremo la reaction al suo nuovo pezzo che si chiama Cello Drive, non vedo l'ora di ascoltarlo, io ho già sentito Ad un Party, devo dire che è veramente veramente bella e subito quello che mi viene in mente dal Cello Drive è il rimando a quello della famiglia Manson del 1969, di questo omicidio del 1969, il brano è stato pubblicato sotto etichetta di Sugar Music, quindi l'etichetta di Madame di San Giovanni, un'ottima etichetta, secondo me molto molto sul moderno e via, non vedo l'ora di ascoltarla, 3, 2, 1, Cello Drive, di Paolo non so cosa aspettarmi in realtà, me lo dico, ho sentito soltanto un brano di sto ragazzo, Produced by Kiv Ah ma che voce, che voce signora, quanto godo, quanto godo ci credo sentilo bellissimo bellissimo ragazzi io ve l'avevo presentato, ve l'avevo un po' decorato, ve l'avevo un po' pompato, perché sapevo già di questa hit me la sentivo ed effettivamente è una gran bella canzone, complimenti Paolo se mai guarderei questo video complimenti veramente un sacco anche al producer Kiv tanta tanta roba mi ricordi molto Michelangelo come facendo una citazione a Blanco come stile nel senso che non come imitazione, ma ci sono degli spunti che effettivamente Blanco è stato un po' quello che ha fatto rinascere questo alternative pop punk, rap punk, non so come chiamarlo, ma devo dire tanta tanta roba mi piace un sacco il tuo stile, che è un stile un po' senza genere, un po' come quello di Blanco e devo dire che veramente complimenti, bellissima canzone e la farò sentire anche ai miei amici e ti farò farò poi sapere la loro relazione, fatemi sapere la vostra è un emergente secondo me molto molto valido, soprattutto nella zona di Brescia ci sono dei buoni talenti e questo è uno di questi e niente, ragazzi, spero che questa reaction a questo emergente vi sia piaciuta e speriamo che le prossime canzoni non siano più da emergente ma da artista affermato ci vediamo poi domani in live con nuovi video e niente, ciao belli ciao 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 ciao